Buongiorno a tutti, vediamo adesso il capo 3 della legge 241 del 1990 che come sapete disciplina il procedimento amministrativo e l'accesso agli atti. Vediamo in particolare gli articoli 7, 8, 9, 10 e 10 bis, la pubblica amministrazione deve comunicare l'avvio del procedimento con le modalità che poi vedremo nell'articolo 8 e a tutti quei soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre degli effetti diretti e nei confronti di quei soggetti che per legge devono intervenire. Quindi sostanzialmente i destinatari di questa comunicazione del procedimento sono i destinatari diretti, gli interventori necessari ma anche i controinteressati potenziali e la pubblica amministrazione può omettere di comunicare l'avvio del procedimento soltanto se ci sono delle particolari esigenze di celerità o se deve adottare dei provvedimenti cautelari. Quindi lo scopo della comunicazione di avvio del procedimento è quello di consentire a tutti coloro che sono i destinatari di poter partecipare al procedimento amministrativo e quindi di esercitare i relativi diritti. Che cosa prevede l'articolo 8 in merito alle modalità e contenuti di questa comunicazione di avvio del procedimento amministrativo? Bene, l'amministrazione deve dare quindi comunicazione personale oppure ovviamente in alcuni casi è possibile anche provvedere tramite delle forme di pubblicità idonee. Nel caso della comunicazione comunque bisogna indicare che cosa? L'amministrazione competente, l'oggetto del procedimento, l'ufficio, qual è poi il domicilio digitale dell'amministrazione, la persona del responsabile del procedimento, la data entro cui si deve concludere il procedimento, i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione, nei casi dei procedimenti e iniziativa di parte anche la data di presentazione della relativa istanza, le modalità attraverso le quali è possibile consultare, prendere visione e accedere al fascicolo informatico, quindi attraverso il punto di accesso telematico e poi anche l'ufficio dove è possibile prendere visione degli atti. In caso di omissione di queste comunicazioni, che sono prescritte appunto dalla legge, l'omissione può essere fatta valere soltanto dal soggetto nel cui interesse è prevista la comunicazione. Ancora l'articolo 9, l'articolo 10 e l'articolo 10 bis li andiamo a vedere in un altro video.